Il 21 marzo è il giorno dedicato da Libera al ricordo delle vittime innocenti di mafia. A Brindisi tanti i nomi elencati quest'oggi, due in particolare, che hanno fatto riflettere i ragazzi più giovani dell'Istituto De Marco Ferraris di Brindisi, quello dell'imprenditore Ciccio Guadaluppi e del giovane Mauro Maniglio. Cosa che più tocca i ragazzi e che anche qui oggi ha toccato i ragazzi sono le vittime a noi più vicine, come Mauro Maniglio, di cui abbiamo parlato perché era un ragazzo come loro, vittime innocente, ma anche come Don Ciccio Guadaluppi, l'imprenditore che aveva qui, più vicino, aveva questa azienda di latte che fu il primo omicidio di Vito Di Emilio, il primo di una lunga carriera di 30-40 omicidi. Non un elenco di nomi, ma storie, storie di vittime della mafia. Ragazzi stanno elencando queste vittime, hanno voluto da vicino conoscere le loro storie per lottare contro la mafia già appunto da ragazzi. Sì, oggi il 21 marzo è la giornata che ormai da molti anni viene dedicata anche da Libera alle vittime innocenti di mafia. Sono tutte quelle persone, dei cittadini, forze dell'ordine, magistrati, che hanno pagato con la vita un impegno importante per battere le mafie, la criminalità organizzata, per i valori della legalità, del rispetto del convivere civile. Io penso, forse parla a nome di tutti noi giovani, che non dobbiamo stare zitti, ma dobbiamo farci sentire e dobbiamo sicuramente farci anche capire. Gullati, Maria Colangiuli.